Ciao a tutti ragazzi e benvenuti con un nuovo cast Io questa non la dovrei filmare ma lo faccio lo stesso Perché sono in ranked L'ultimo giorno prima della season Ufficiale E cosa succede? Faccio sta partita Prendo l'ini come supporto L'ultimo, sto russo del cazzo qui Deve prendere il tank Perché era l'ultimo a scegliere, ci mancava un tank Tutti gli diciamo tank 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 Aveva preso una tirande Che andava malissimo La cambia con un Illidan Non si può dire ancora pezzo perché Fa schifo uguale in quel momento Fra tirande e Illidan Nel momento in cui ti serve un fottuto tank E adesso vediamo se riusciamo a fare il miracolo Tipo andare sopra di exp in modo infinitesimale Sto russo del cazzo Vediamo se fa miracoli incredibili Ma qui secondo me ragazzi ci sarà veramente veramente Da divertirsi un fottio perché Succederanno cose allucinanti Magari non tanto qui all'inizio Dove se non riusciamo a fare exp siamo morti praticamente Ma in late game quando il loro tank sarà così ciccione Che supporterà tutto Tutti i danni che gli faremo E noi invece avremo sto Illidan Che continuerà a morire a raffica Perché poi neanche un personaggio facile da giocare Non ho proprio Illidan Il top Ti serve un tank Quello che ha meno vita di tutti Ti prendi grandissimo I russi ragazzi su sto gioco Fanno fottutamente schioppare da ridere Io non capisco il perché Ma quando abbiamo visto che era russo Cioè tutti sapevamo come sarebbe andato a finire la situazione Ovvero che avrebbe fatto una cazzata colossale E ovviamente è andato a finire in questo preciso modo Non poteva essere diversamente Ci siamo E tra l'altro io devo anche starci in lane ora Perché proviamo a tenerlo su di vita Ma io non so come fare a questo a sopravvivere Qui era già morto senza di me Devo andare back anch'io Quindi lasciamo la lane scoperta E di là inizia a morire Zagara Beh dai ci siamo Direi che andiamo bene Ragazzi questa è una presa competitiva for fun Veradigo oh my god L'altro le volevano anche riportarli Adesso non gli faccio il report Però sarebbe nettamente da fare il report A un ritardato che ti gioca in questo modo Credo che se lo meriti totalmente Un bel report in della face Così imparano a giocare questi ritardati Guardati a sto gioco E vabbè vabbè ragazzi Bot non c'è nessun ora Ci andrà a zagara Credo Spero Siamo sotto di exp Cioè ragazzi Questo è proprio il peggio Sì le zemme E' l'unica cosa che ci può salvare Il problema è che se come questi si mettono A fare teamfight su teamfight E noi non ne riusciamo più Veramente a scappare fuori Io vado con la solita build Non è che posso fare Fare tanto Tra l'altro Hildan è anche abbastanza ritardato Perché sta Prendendo anche le scelte sbagliate Eccolo Subito morte E via la morte per Hildan Salviamo sta buon vecchia valla Che Proviamo A giocare di sopra Delle nostre possibilità Ma ragazzi Quando succede così Poi ditemi Se sei forte sali Teoria nella quale io credo Tranquillamente Perché Vedo proprio delle partite Dove giocando bene Si riesce proprio a fare la differenza E questo lo dico anche Sempre ai ragazzi Che alleno Ma Quando ti succedono queste cose Poi valli spiegare Alle persone Se sei forte sali Quando un ritardato Ti picca Hildan Cosa che Non deve fare Ehm Vabbè Perdiamo exp Da tutte le lane Proprio non ne abbiamo Una Soluzione Per venirne fuori A questo punto Giochiamola così For fun E però cioè Ve la volevo portare ragazzi Sta partita Per proprio Farvi vedere Come si scoppia Scoppia in live Col black force Perché È fantastico Qui Andiamo anche back Direi perché C'è sta lunara Che picchia forte Ehm Proviamo a dar vita Valla Il più possibile Dovrebbe essere fuori Pericolo Abbiamo fatto la kill Su lunara Quanto siamo forti Scrivo anche IB Però prima di tutto Ehm Pappappà Segnala giocatore Ehm Mancanza partecipazione E scriviamo Hildan Proprio Per far notare Anche Qual è stato Il suo errore Non lo volevo Riportare Ragazzi Però cioè I ritardati Che fanno A ste scelte Vanno riportati È l'unica cosa Che si può fare Top Zagara 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 deve Necessariamente Giocare Per andare A fare Exp sulle lane Invece Non è che Stia giocando Proprio Benissimo Neanche lei Io da sola Non è che mi sento Da sola Non è che mi sento Da sola O da sola Secondo se Parlo del Blackforce O di Lily Non è che mi sento Proprio Tranquillissimo E altra Che il Sulunara Ma come stanno Viaggiando Sti ragazzi E io vado A tirare su Valla Giustamente In questo momento Via con la mia E super mega forte Non andiamo giù Non andiamo giù Non andiamo giù Ragazzi Difficilissimo Sto momento Fontana Dato che ci siamo Passati vicini Fontana Ma ovviamente Illidan cade Cioè Che pensiamo Che Illidan Riesca a rimanere vivo Ma va là Ma va là Non speriamoci Nemmeno Gli abbiamo Counterato La loro Gemmazione Mamma mia Che cattiviera Che abbiamo Nel counterare Questa gemmata Abbiamo anche noi Da consegnare Il problema Che ce l'hanno Anche loro E ora avevano Liler fuori Fortunatamente Diremo giusto I tizi Grandissimi Ora se Illidan Muove il culo Alla velocità Della luce Potremmo anche avere No L'hanno fatto E bot Lol Super mega Extra Lol Ragazzi Mannaggia Ce l'hanno messo In quel posto Le gemme Erano una Delle nostre Poche soluzioni Che avevamo In questo game Il loro Xul È stato Molto intelligente Devo dire A mettercelo Tranquillamente Nel buco Del Bip Ce l'hanno messo E ci insuriamo Queste Volgarità Anche se ci starebbero Tutte in questo momento Perché Fra l'incazzatura Di sto Illidan Che mi sta facendo salire Qui E anche sto Sul Porca puttana Dove Vedete che il mio canale Verrà chiuso Per motivi strani Capite bene Che non sono Ben apprezzato Dalla buon vecchia Madre patria Russia Ma questi sono altri discorsi Io a me serve Mana invece In questo momento Andiamo a tirare giù La testitrice E me ne vado Fottutamente Back Alla velocità Della luce Non scivolare Tizzi Fammi andare back Ok Anche perché Mi stavo grattando Con l'altra mano Quindi avevo solo La mano del mouse Potevo solo scappare Ma Ci stanno Split pushando Alla velocità Della luce Dato che noi Non abbiamo un tank Che possa Arrezzere Le lane E qui c'è questo Xul Che non so Se ha visto la gente Ma bisognerebbe andare Ad uccidere Anche abbastanza Velocemente Magari Prima che ci tiri Giù Completamente Il forte Con le sue Tessitrici di merda Blocca Zagara Zagara purtroppo Era da sola Perché Quando ho pingato Su Xul Nessuno ha guardato Prendiamo Anfora Ma siamo solo Dietro di quasi Un talento Dai Siamo ancora In partita Ragazzi Siamo 6 Squadra l'altra Ha fatto più kill Degli altri Farei notare Questa cosa Adesso mi metto Anche fare Exp Da solo Non è che Sia proprio una cosa Che mi piace fare Al massimo Delle mie energie Di razza Anche Li Ming Top Vogliono consegnare Ipotizzo Loro Perché Tracer Ok Vedo Tirare Su Tracer Il problema È che Ma Illidan Che cazzo Sta facendo Scusate Va back Ok Ci siamo Stiamo subendo A più non posso Che proviamo Tracer A fare i miracoli Tracer giustamente Manda avanti me Valla Illina Where is your Lol Vabbè Vabbè Ma noi Siamo autodidatti Faremo Faremo tutto Da soli Per fortuna Che Zagara Mi pare O Valla Non mi ricordo All'inizio della partita Aveva detto Possiamo ancora vincere Ora ovviamente Mi sembra che fosse Tra l'altro Anche Zagara Addirittura Anfora Non riesce A tenere su Valla Porca puttana Le mie povere Anfore Non riescono Nemmeno a sostenere Questi eroi Con pochissima vita Zuo anche Tracer Zagara Fa la giocata Della vita Lasciando Li Ming Da sola Nel team Avversario Ma poi Non possiamo Farsi nulla Ovviamente Noi perché Ora Gli scriverò Il messaggio Troll Yeah yeah We could No we can Ancora meglio Pi' diretto We can win Vabbè Oh my god All Ec 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 Vabbè Sì Zagara aveva ragione Si poteva vincere Anche con un team Del genere Se riesci Beccare Dei ritardati Dall'altra parte Si devono Giochi bene Per le zem Fai i campi Però Si vuole sempre Una certa collaborazione Del team avversario Nel giocare male E nel tuo team Che deve giocare Super mega bene In particolare Un eroe come Illidan Non facile Da giocare Già di suo Io vado a consegnare Le mi 19 zem Pulite Dovremmo fare Un'altra consegna Prima degli altri Ecco Questa Non sarebbe male Come cosa Il problema è che Non è facile per niente E c'è sto Illidan Che si sta facendo fare il culo Praticamente Dal Dagli avversari E quindi niente Vedete un po' I fail In live Dei giocatori Di Heroes of the Storm Tessitrici In faccia Avevo detto che Dovevamo consegnare Noi Ebbene Abbiamo fatto Più o meno Una cosa del genere No Dettagli Che hanno consegnato Adesso prima loro E consegneranno Ancora prima loro Più avanti Tazze Tazze Proviamo a tenere Sud da gara Niente Niente Scappa Valla Perché Valla Non stai andando Nel posto giusto Ok Spammiamo i nostri tasti Come se non ci fosse Un domani Questo ETC Riusciamo ad allontanarlo Ma tranquillamente Non riusciremo Oh my god Really Really Lol Zagara Mi fa così pena Zagara Che pensava di vincere Addirittura Questo che Quei kill Su ETC Ignorantissimo Questo ETC Sbaglia tutto E si prende Una kill Nella faccia Praticamente Stop Zero Help Lol Illidan Stop Zero Help E beh Invece Hai dato Molto Ma senti sto Illidan Che arroganza Illidan Please Retard Ci sta bene Retard Ci sta molto bene Ragazzi Ricordatevi sempre Di essere Carini Nel Non offendete Le altre persone Almeno che questi Non siano russi A questo punto Potete Veramente Fargli un sacco Di insulti Trattarli proprio male Perché Se lo meritano No Fondamentalmente Se lo meritano Dai Trovate Trovatevi un russo Che gioca bene Su sto gioco E io ve ne sarò Più che Learn to play Idiot Vabbè E poi ti succedono Ste cose qui Direi che ci sta Ma guarda Ma guarda Sta zagara Che mi pinga Per chiedermi aiuto Che io sto scrivendo Ritardato A Illidan Veramente Sta zagara Proprio zero Illidan E tu sei il noob Qua E vabbè Vabbè Proviamo a fare i miracoli It's only Russian Effettivamente C'è ragione Che la buona vecchia zagara Sotto di due livelli Stiamo Facendo il nulla In questa partita Praticamente Io ho comunque curato Direi molto bene Sono morto Sono morto Zero volte Ma come sono forte Ragazzi Non muoio mai Proviamo a consegnare O Se lo vogliamo far mettere Ancora ben ben nel culo Da Sta gente di merda Che dite E io vado a fare Anfora Vado a fare Anfora Ma ETC Mi blocca L'anfora Valla Spara ETC Avete visto In questo momento Come La scelta Proprio Del bersaglio Quella giusta Attenzione Per cui facciamo Un ingaggio incredibile Il gente che sbaglia Quello che deve fare Ma poi Una 3 Che tra l'altro Non mi sta neanche dispiacendo E Un Illidan Che Non sei morti Affatto Volevo provare a difenderlo Ma è solo un russo di merda Ce lo stiamo chiedendo tutti Cosa sta facendo questo Illidan Ma ancora di più Mi sto chiedendo Che cosa stiamo facendo noi Che addirittura Vogliamo provare A vincerla Direi incredibile Sta Zagara Zagara proprio Rincoglionita netta Doveva andare prima Poi dice gli altri Ma che Zagara Ragazzi Abbastanza Retard Mi pare Credo si sia anche Resa conto Della figura di merda Che ha fatto Credeva che Nonostante la consegna Dei dobloni Rimana Rimanesse Rimanasse Rimanesse Il boss Fattibile Ma E invece Non è proprio così What Your Your Epic No Your Epic Fail For Boss Incubazione Di Zagara Bel talento Che mi piace Nelle nuove build Non si gioca Tantissimo Forse Vabbè Si potrebbe Tornare a giocare Anche sulla build Che faccio Adesso con Lily Il terzo Il talento Prima di questo qui Quindi il talento Dopo il 10 Forse lo rivederei Un attimo Perché Rivedrei un attimo Perché Credo si possa Fare un pochettino Di meglio Qui sto cercando Di salvare Sto Lily A tutti i costi Ma se Non vuol farsi salvare Non è che posso fare Chissà cosa Non voglio morire Non voglio morire Ragazzi Non voglio morire Salvatevi Salvatevi Grande Zagara Ottimo Grandissima Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Overe Overestendere sugli avversari Quindi Mi pare di aver fatto bene Invece Sta povera Ritardata Non la pensa come me Io gli da un fenomenale Ne fare i campi Almeno questa cosa Va concessa A sto povero personaggio Desidrizi nemiche Ne arrivo Lol Allora Sto Lily Hanno bisogno Che stia dietro Ho bisogno Che stia dietro Invece Si è andato A far uccidere Come un Pivello Abbiamo la Tessitrice Contro Qui ragazzi Io la vedo Veramente dura Ho addirittura Azzardato prima Una nostra Probabile vittoria Ma Non si siamo accorti Qui che Tracer In questo momento È top Quando loro Volevano fare Un team fight Mid Queste sono cose Importanti Che io consiglierei Di guardare A questi Espertoni Di Heroes of the Storm Che invece Fanno pena In più Da gara Ha fatto 4 morti Quindi Io non so Di cosa stai parlando In generale Dato che Hai fatto 4 morti Io starei zitta Direi Ho giocato male Scusate ragazzi Magari Alla prossima volta Imparo Un pochettino A giocare Meglio Scusate Vui In questo caso Non posso fare niente Non so se Se ne accorta Zagara Che io Sto spammando Le mie abilità All'infinito Ma non posso Salvarla Se Non ho Abilità Da usare Lags Io Non Non capisco Sto da gara Cioè Illidan è ritardato Per carità L'amor di dio Però Anche sta Zagara Ci sta Ci da abbastanza giù Siamo arrivati Addirittura All'ultimo talento Per me È già un successo Con un team del genere Siamo arrivati all'ultimo talento Quindi non solo Illidan Non solo un ritardato In team Ma più di uno Io la proporrei Sempre No Quando si dice Alla teoria Se sei forte sali Poi guardi queste cose E capisci Qui Zagara Pensa di vincere Veramente Zagara dice Andate Che ci stanno Facendo il boss Andate Siate super veloci E invece Non ti stanno Facendo il boss Perché hanno fatto Questo campo qui Quindi non so Come puoi pensare Che ci stiano Facendo il boss Il problema è che Se tu Non vai Non ti pingano Poi dopo ti dicono Ma hai visto Non sei andato Io ti ho pingato Ho sbagliato Così gli dimostri Invece Che non sanno giocare Che devono Riflettere meglio Su quello che fanno E magari anche Scegliere Di cambiare gioco Forse Non è un errore Poi lì Ognuno prende Le sue considerazioni Non ho la R Ah ok Sì ce l'ho Vorrei che Stassimo un pochettino Più tutti insieme Però Bene anche così Pensavo Ingazzassero Invece Non ingazzano Zagara è ferma Zagara è ferma Cioè Zagara è ferma Vabbè Ci sta Ci sta tutto Diciamo Ci stanno attaccando Il forte Quindi Non so che cosa Aspettavano loro Non ingazzare Ma Oh my god Cioè Guardate le statistiche Di Zagara Imbarazzante Ha fatto bene Solo il danno D'eroe Ma con l'attacco Chi si ritrova Credo sia difficile Non fare Un buon danno Agli eroi E parla Ancora Io lì Gli ho detto È un errore Aver usato Metà c'è il drapio Non sono riuscito Volevo chiederti Quando puoi Termi sistemare Per migliorare La mia velocità Rolf Adesso Dopo questa sconfitta Vado ad aiutare Sto ragazzo Su Su Ozz Tra l'altro Un saluto ad Allen A superarmi I due ragazzi nuovi Che avevo anche Minzionato La scorsa volta Ci impegniamo A perdere Sta partita O Vogliamo Continuare A difendere Come dei Poveri Scalmanati Per sempre Io qui Ragazzi Ho fatto una partita Incredibile Con un team del genere Non sono mai morto Adesso Ovviamente una morte La dovrò fare Perché Altrimenti Le mie parole Sarebbe troppo bello Dire Non muoio mai E poi invece Ti killano In malo modo Però anche da healer Punto focale del team Punto che Ti attaccano spesso Riesci a rimanere Bello Bello Su Danni come se non ci fosse un domani Ci hanno fatto anche il nostro campo di mercenari Ma va bene così a noi non ce ne frega Noi siamo i guerrieri del futuro Difendiamo senza alcuna ragione di vita Ragazzi A fuori delle milità ci salverà tutti E effettivamente ci ha salvati però Va bene uguale Diciamo che faccio le ultime a caso Dai ci può stare come Come osservazione Direi che questa zagara può anche andare a giocare Con le barbie Altri giochi Poi non so Ognuna ha i suoi gusti però Di certo non a Hears of the Storm Perché non credo sia proprio il suo gioco Addirittura peggio di Illidan Ha fatto Illidan dici Oh mio dio ragazzi Illidan dici Ten Lol GG VP Oh ragazzi Non sono mai morto con un team del genere Fuck you Lol Vabbè ragazzi Vi volevo portare dai questa partita Semi divertimento Semi Magari anche per Far riflettere un attimo Per il resto io ragazzi vi ringrazio per la visione Come sempre vi ricordo di mettere mi piace Commentare Iscrivetevi al canale se mi piace il video E noi ci vediamo con il prossimo cast Ciao a tutti Ciao a tutti